Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo video di come si disegna. Oggi disegniamo Semino di Brawl Stars. Semino è un semino piantato su un cyborg o comunque su un robot. Per disegnarlo faremo una specie di una capsula. Tiriamo una linea dritta, giriamo, torniamo in giù e poi la chiudiamo un po' dritta. Quindi come se notate la parte bassa è un po' più squadrata e quell'altra è un po' più arrotondata. Adesso dobbiamo scegliere dove sarà il nostro centro O. Dove sarà la sua faccia. Allora, tiriamo una riga e poi la cancelleremo. Diciamo che questo è il centro della sua faccia. Allora, disegniamo il foglio di carta dove è disegnata la sua faccia. Forse la possiamo mettere un po' più in giù. Qua. Così. Qui pieghiamo i due angoli. Mettiamo lo scotch. E disegniamo il suo viso. Così. Adesso, sempre in questa linea, sarà il centro per una forma di questo genere. Questa è la parte dove c'è il robot. Diciamo che forse l'ho fatto un po' largo. Lo avvicino un pochino. Così. Ecco. Comunque questa linea andava bene. Arriva qua dietro e poi torna indietro. Così. Quindi facciamo da questa linea facciamo uno spessore un po' più largo. E anche da questa parte qua. Così. Cancello le altre linee così non ci danno fastidio e non vediamo. Non le vediamo più. Ecco. Quindi. Qua c'è il nostro semino. Una volta disegnata questa parte qua. Poi ci aggiungeremo qualche dettaglio. Facciamo le ruote. Facciamo. Una ruota qua così. Tiriamo una linea dritta. Facciamo la stessa cosa dall'altra parte e poi facciamo due linee centrali. Adesso. Qua ci sarà la ruota. Qua ci sarà la ruota. Ecco. Adesso dobbiamo aggiungere. La trasparenza. Qua dietro ci sarà. Continuerà il. Questo. Questa struttura. Qua ci sarà. Il semino. All'interno di questa. Questa macchina. E poi. Avremo la foglia. Il germoglio. Allora. Facciamo. Qua delle linee. Qua facciamo un simbolo. O possiamo fare uno sportellino. Ok. Comunque. Qua. Nella parte più alta. Questa. Disegniamo. Un cerchio. Poi. Facciamo una linea così. Facciamo il cerchio. Facciamo una linea a metà. e poi da qua. Facciamo partire. Un tubo. Facciamo poi. Un po più largo. E facciamo la stessa forma. prima. E poi. Facciamo le due pinze. Un perno centrale. l'altra. E l'altra. Così. E qua possiamo fare anche. Così. Ecco. Direi che. Potrebbe andare bene. Allora. E. Lo ripassiamo. Lo coloriamo. Quindi. E poi. bene abbiamo concluso adesso semino purtroppo mi ha sbavato un po da qualche parte coloriamo e concludiamo se il video vi è piaciuto fino a questo momento ricordatevi di premere mi piace e ci vediamo alla fine del video grazie a tutti 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 Grazie a tutti